In questo video vi parlerò della storia, delle origini del Birner scorcio. Quel basso ha la paletta spezzata e riattaccata. Nel frattempo regalo praticamente questo basso a un amico che aveva comprato un altro dei miei vecchissimi bassi per una cifra risoria. E così, per farlo contento, gli regalo anche questo basso. Questo basso mi causerà un sacco di grane perché poi viene attualmente rivenduto nei vari mercatini di bassisti come Birner scorcio prototipo. In realtà è uno strumento che ha dei pick-up pacci tremendi dentro e la paletta rotta. Ora sto quasi cercando di ricomprarmelo per tenerlo io perché ogni volta è un problema con il nuovo acquirente di sto basso. Forse nasce anche da questo basso la famosa leggenda degli strumenti Birner coi pick-up cinesi perché qualcuno l'ha probabilmente aperto portandolo da qualcuno e visto che sono pick-up brutti ma quello non era un basso destinato alla vendita quello era un basso prototipo per me di quando ero poco più che un ragazzetto. Salto temporale al 2009-2010. In questo periodo i bassi headless non vanno granché di moda. Ci si ricorda del basso headless come lo Steinberger la famosa scopetta, quello col corpo trapezoidale bruttino, manico. non ha granché fascino nella popolazione dei bassisti sia italiani che anche oltreoceano. Viene visto l'headless un po' come un basso di ripiego per viaggiare, spostarsi o bassetto a scala corta per chitarristi che si improvvisano bassisti però non è un oggetto del desiderio. A questo punto io ben decido di fare un basso headless e provare a venderlo perché ho già la ditta, sono già avviato. Provo a fare quindi questo basso in una nicchia che non ha elementi di spicco e mi viene in mente che stavolta su uno strumento senza paletta potrei riutilizzare il disegno del corpo piccolo che mi piaceva ma non era adeguato che avevo usato nel primo 6 corde 10 anni prima. Lo realizzo e viene fuori un bello strumento alla fine sui vari forum di moda al tempo viene commentato in maniera positiva e ne vendo un paio non più di un paio per almeno un anno o due non c'è richiesta. A un certo punto passo dalla scala 34 alla scala 32 su questo corpo quindi un po' più piccolo e incuriosisco qualcuno perché comunque è una novità nessuno in quel momento stava abbandonando la 34 comincio anche a evidenziarne un po' i lati positivi la morbidezza la facilità nello slap e francamente inizia a piacere iniziano le vendite. il salto vero e proprio lo faccio nel 2011-2012 quando in seguito probabilmente a un'intercessione di Arestavo Lazzi mi chiama una mattina Patrick Givas della PFM Patrick voleva un basso leggero e piccolino per dei problemi alla spalla che aveva contentissimo gli propongo lo scorcio Patrick però non si accontenta della normale elettronica attiva e vorrebbe qualcosa di un po' più flessibile di usabile in passivo con la sua strumentazione è da lì che ci mettiamo a creare quella che diventerà la Quadra Coil che diventerà poi una delle opzioni più richieste per lo scorcio e non solo in definitiva la Quadra Coil sono 4 bobine 2 per pick up e possono essere messe in serie parallelo e scelte fra interne e esterne insomma c'è del calcolo combinatorio dietro comunque trovate una spiegazione un po' più dettagliata nel sito leggetelo ogni tanto sono tre paginate di roba probabilmente anche col volano dell'esposizione dello scorcio nella PFM che al momento si stava rilanciando dopo un grosso periodo di pausa con PFM in Classics la richiesta dello scorcio aumenta, aumenta, aumenta tantissimo fino a diventare senza dubbio il modello di punta il modello più venduto tra i Birnell nel frattempo in collaborazione con Adriano Magliocco che è cliente, amico, architetto e disegnatore anche dell'ACME e dello Stige altri modelli di bassi disegniamo lo scorcio 34 altro non è che lo scorcio in versione 34 pollici cioè la scala lunga normale di qualsiasi altro basso tipo precision eccetera lo scorcio 34 è una rivisitazione dello scorcio 32 con un corno più lungo e il body leggermente diverso non troppo snaturato ma comunque con una personalità sua diversa beh, dove sta l'importanza specialmente per me di questo scorcio? è importante perché le vendite dello scorcio da sole finanziano la ditta finanziano lo sviluppo finanziano l'investimento su macchinari più precisi legname e tutto quello che può servire infatti in questo periodo c'è una discreta evoluzione sia stilistica che nella precisione delle lavorazioni perché comunque al momento sono arrivato a 200 solo per il scorcio 32 fatti quindi anche l'abilità mia cambia di parecchio a un certo punto succede che un cliente mi chiede uno scorcio 32 giallo e nero ma giallo e nero come si può sfumare bene il giallo limone col nero? viene brutto no, facciamolo allora senza sfumatura proprio con un bel bordo nero questa cosa che lì per lì poteva sembrare un po' strana poi a prodotto finito era infatti piuttosto carina e ricordava una Camaro comunque una muscle car americana la classica Camaro Bumblebee infatti quella colorazione è proprio scorcio 32 Bumblebee mi viene in mente però che c'è una cosa che manca due strisce di pinstriping su una parte del corpo come sul cofono motore delle macchine da corsa ne faccio quindi subito uno per me e scelgo la livrea probabilmente più famosa di tutte la Golf degli anni 60-70 quella che è stata sulle Ford GT e su tante Porsche insomma quella celeste e arancione faccio quindi questo basso e la livrea con anche qui grande fantasia la chiamo livrea corsa e la cosa che è stata sull'astronica è stata sull'astronica questa cosa è stata sull'astronica la differenza è stata sull'astronica che sia di un guattro e la causa che sia di più è stata sull'astronica per potenza Grazie.